Sono cambiate tante cose in estate, come mai qua un cordone umbilicale che ancora non è stato reciso? Sicuramente mi fa molto piacere tornare qua e ci torno spesso, oltre al fatto che comunque da Venezia sono abbastanza vicino, poi sto frequentando una ragazza di Cesena, quindi il motivo principale è questo, ma è un'emozione unica vedere tutta questa gente, questo calore per questa squadra, al di là della categoria, perché comunque sono tifosi abituati alla Serie A, alla Serie B, però stanno comunque vicino a questi ragazzi, questo fa molto piacere e dimostra ancora una volta che piazza è Cesena. Ti manca un po', sinceramente, al di là di quello che sta accadendo a Venezia? Beh, io ho intrapreso una nuova avventura, però è chiaro che qui ho passato due anni meravigliosi e oggi essere qui è veramente emozionante, a ogni gol mi veniva un nodo in gola, mi ricordavo il periodo che sono stato io, quindi sono contento, veramente.